Sarà un fine settimana dedicato alla politica, alla riflessione rispetto ai problemi che attanaglia nel territorio del Nisseno, le possibili soluzioni, quello che si prospetta a Caltanissetta. Due agli appuntamenti previsti il 5 e il 6 marzo in città, organizzati dai due partiti di maggioranza che sostengono l'aggiunta al rubolo, PD e UDC. Ad aprire le danze sarà il Partito Democratico, sabato alle ore 17 all'Hotel San Michele. Quale futuro per il territorio nisseno? Questo è il tema del convegno dibattito sullo sviluppo delle aree interne della Sicilia, con particolare attenzione alla provincia di Caltanissetta. Una domanda ormai obsoleta, la quale si cercherà di dare una risposta che non sia individuale o ideologica, ma che risponda alle esigenze e ai bisogni, alle prospettive, ai progetti dei territori, dei loro amministratori e dei cittadini. Ad introdurre i lavori e a moderare l'incontro, al quale sono stati invitati i sindaci, i consiglieri comunali e gli amministratori della provincia di Caltanissetta, sarà Ilaria Insisa. Interverranno Davide Faraone, sottosegretario di Stato del governo Renzi, Giuseppe Lupo, vicepresidente dell'Ars, e Daniela Cardinale, deputato nazionale della provincia nissena. A rappresentare le istanze del territorio, tra gli altri Giuseppe Gallè, segretario provinciale del PD di Caltanissetta, Angelo Fasulo, del PD di Gela, e Totuccio Scannella, segretario del PD di Mussomeli. Domenica 6 marzo, invece, l'Udc, a conclusione dei congressi cittadini nei 22 comuni della provincia, con l'elezione dei segretari, l'ultimo domenica scorsa a Gela, ha indetto a partire dalle ore 10 a Villa Barile, l'assemblea provinciale che servirà a definire il quadro programmatico e le linee politiche che il partito porterà avanti nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle questioni e alle esigenze del territorio, motivo per il quale sono stati invitati anche gli amministratori locali, che saranno coinvolti nel dibattito. Caltanissetta sarà la quinta tappa dell'assemblea provinciale dell'Udc in tutta la Sicilia. A introdurre i lavori sarà Angelo Bellina, segretario provinciale dell'Udc. Un'occasione per riflettere anche sull'attuale momento politico nazionale e regionale, grazie alla presenza di Giampiero Dalia, presidente nazionale dell'Udc, e degli assessori regionali alla famiglia, politiche sociali e lavoro, Gianluca Miccichea, le infrastrutture e mobilità, Giovanni Pistorio. Tra gli altri interventi programmati è anche quello di Margherita Larocca, presidente regionale dell'Udc, e Mimmo Turano, capogruppo dell'Udc all'Ars.